Rose bianche e rosse, tanta commozione e un applauso scrosciante. Così Cassino ha salutato per l'ultima volta il DJ di fama mondiale Claudio Coccoluto, morto nella mattinata del 2 marzo dopo una lunga malattia nella sua città. Il funerale dell'artista nel pomeriggio nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza del popolo a Roma. Ci sarà una rappresentanza del comune della città martire con il sindaco Salera. Dopodiché la salma tornerà a Cassino per la tumulazione. Grande cordoglio in tutto il mondo musicale e non solo nelle ore successive alla morte di Claudio Coccoluto. In primis il ricordo nella prima serata del festival di Sanremo con Amadeus e Fiorello.